Siamo con Niccolò De Simone, responsabile per quello che riguarda la comunicazione del Tireno Power, un'altra partecipazione importante di questo sponsor in un torneo che sta diventando sempre più un punto di riferimento nella città di Civitavecchia. Punto di riferimento della città di Civitavecchia, del tennis, l'azienda è sempre stata vicina a questa manifestazione, riflettevamo sul fatto che molte cose sono cambiate anche nella nostra strategia di comunicazione, abbiamo scelto altre iniziative, ma in questi anni l'unica ad essere stata sempre presente è quella del tennis, quindi direi un segnale importante per circa la nostra partecipazione a questa manifestazione. Una realtà, una disciplina che secondo lei può ancora crescere molto? Io non sono un esperto di tennis, però mi occupo di comunicazione, io credo che da questo punto di vista il lavoro fatto dagli organizzatori sia un lavoro molto buono, perché sono stati in grado di rendere quantomeno sempre più appetibile questo torneo alle aziende e quindi hanno investito molto anche in termini di immagine, di media e quindi direi un'occasione di comunicazione importante. Qual è il segreto del vostro gruppo? Perché insomma sette edizioni sono davvero tante. Io credo che sia stato un passo parola tra le ragazze. Le ragazze venendo qui hanno sempre dimostrato una certa, come posso dire, disponibilità da parte nostra verso di loro e loro sono state sempre coccolate e hanno visto questa differenza magari negli altri tornei dove sono un po' meno bistrattati, non hanno la transportation, diciamo tutte quelle piccole cose che loro come chiedono vengono esaurite. Anche quest'anno tante giovani tenniste di talento, c'è la possibilità anche per quello che riguarda l'edizione di questa stagione di vedere delle Vosniaki in erba che muovono i primi passi nei nostri campi? Diciamo che una come la Vosniaki purtroppo no, in che senso? La Vosniaki era una wheel card all'epoca, come l'abbiamo avuta anche in un'altra edizione, delle quindicenne che dalla federazione internazionale potrebbero partecipare a questi tornei perché dato la loro classifica non potrebbero partecipare. Sì, però ci sono altri ragazzi di valore in dubbio.